Gestione oculata delle risorse, servizi ai cittadini più bisognosi, valorizzazione del volontariato e del patrimonio locale. Con il premio Buona Politica il Consiglio regionale ha voluto riconoscere le best practice di Cristina Bartesaghi, sindaco di Abbadia Lariana, Martino Martinotta di Corto e Nogolgi, Giovanni Candiani di Dizzasco e Raffaele Morigi di Pagazzano. La pergamena, che evidenzia le loro capacità amministrative, è stata consegnata dal Presidente del Consiglio Raffaele Cattaneo alla presenza della Vice Presidente Sara Valmaggi e della Consigliere Segretario Daniela Maroni. Le candidature di quattro sindaci, che si aggiungono ai 14 colleghi premiati in questa legislatura, erano state proposte dai consiglieri del territorio Raffaele Straniero, Fabio Fanetti, Francesco Dotti e Silvana Saita. Grazie. Grazie.